Gli ingredienti per fare la cicerchiata sono 250 grammi di farina, 30 grammi di burro, 30 grammi di zucchero, 2 uova, una fialetta di aroma di rum, vino bianco quanto basta, olio per friggere, 130 grammi di zucchero, 130 grammi di miele, qualche mandorla e nocciola tritata. Con queste dosi vi viene una cicerchiata diciamo medio piccola, in realtà è una cicerchiata adatta per una cena dove si è in 6 massimo 8 persone un pezzetto a testa, però ho scelto di dare questa dose perché è una ricetta abbastanza lavorata con diversi passaggi e quindi impelagarsi in dosi maggiori poi richiede un lavoro che veramente diventa un po' sproporzionato, diciamo un lavoro un po' grande tra la frittura, tra il taglio dei pezzetti proprio di cicerchiata. Allora ho scelto così, la facciamo perché è carnevale, la facciamo una o due volte ma facciamo delle porzioni che siano abbastanza gestibili e tutto sommato nel giro di un paio d'ore avremmo fatto tutto. Allora avete visto ho fatto la fontana classica, ci ho messo il burro che ho lasciato ammorbidire, lo zucchero, le uova, ho iniziato a impastare a mano, ci ho messo la fialetta, la classica fialetta di aroma rum perché profuma tanto e poi se l'impasto vedete che è ancora un pochino duro perché sono due uova e 250 grammi di farina aggiungete del vino bianco, quello necessario per avere una pasta elastica ben lavorabile. Ora ci sono diverse strade per ottenere i pallini della cicerchiata. Allora le nostre nonne facevano questo primo metodo quindi come quando si preparano gli gnocchi, facevano il filoncino con la mano e poi lo tagliavano con il coltello. Questo è un metodo e è quello classico. Oggi si tende a fare questo secondo metodo che sto mostrando, si prende un pezzo, si stende lasciandolo di uno spessore di circa mezzo centimetro e poi con il coltello, vedete come sto facendo, così è molto più furbo, si tagliano dei bastoncini, questo è lo spessore, poi chiaramente rigiriamo e andiamo a tagliare da quest'altro verso, immaginate già la velocità quanto aumenta. Se la pasta è molto morbida così però può capitare che vi si attacchi, vi si attacchi i nuovi pezzettini e dovete ripassare i bastoncini che avete ottenuto e andare a separarli. Un altro metodo ancora è quello di tagliare la parte che avete steso e poi con il coltello, una volta fatti tutti i serpentini, andare ad ottenere i pallini. Insomma avete capito, non ve l'ho nascosto, questa è la parte un pochino più antipatica, più lunga della ricetta. Trovate la vostra strada, trovate una soluzione e ottenete tutti questi pallini. A questo punto andiamo tranquillamente alla frittura, adesso diciamo sarà tutto in discesa, la parte quella un pochino più elaborata e passata. Come l'olio è bello caldo, prova dello stecchino, la padella di ferro classica per le fritture, io soprattutto a carnevale la uso sempre. Andiamo a cuocere, io li chiamo i pallini, non so se hanno un nome, sono i pallini della cicerchiata. Un po' alla volta li buttiamo nell'olio caldo, chiaramente sono piccoli, cuociono molto velocemente, sentite il profumo. Poi assolutamente una cosa che vi consiglio, allontanate tutti perché sennò iniziano a mangiarveli così come li avete fatti e non vi rimangono per finire la ricetta. In una padella antiaderente, sto usando, mettete il miele, lo zucchero e la frutta potete prendere, la frutta secca potete prendere le noci, potete prendere le bocciole, potete anche prendere alla fine, ma quello se prendete gli zuccherini, le codine di zucchero colorate, quelle alla fine, non in questo momento. Fate caramellare il tutto e ci versate i pallini della cicerchiata. Il tempo che con la fiamma bassa tutti i pallini saranno avvolti dal miele, andiamo a preparare un piatto. Allora a me mi dice sempre mia suocera, a me e me ho detto, di strofinare con il limone il piatto dove si appoggia la cicerchiata perché così non attacca. Molti fanno con l'olio a stravergine di oliva, tanti, forse secondo me i più intelligenti, fanno con la carta forno sotto, che sì è brutta da vedersi, però sei tranquillo che poi il piatto non è che insomma la cicerchiata si stacchi, ma in realtà noi la serviremo già su questo piatto dove l'abbiamo preparata, la taglieremo qui e poi alla fine laviamo il piatto e non è successo niente. Allora questa è la ricetta la più buona di carnevale, però l'avete vista e non ve l'ho nascosto, è bella lavorata. Arrivederci al prossimo video, un abbraccione! Grazie a tutti!